stai pensando di vendere la tua vecchia auto per acquistare una nuova o semplicemente quella che hai non ti serve più o ancora vuoi una valutazione per l'assicurazione lo sai che su ratx.com puoi fare tutto online caricare le foto della tua auto e noi te l'acquistiamo in 30 minuti ti basterà andare su ratx.com servizi quotazione e cliccare su voglio vendere il mio usato e poi quando vuoi vendere il tuo usato compilare tutti i campi con l'asterisco marca modello chilometri percorsi targa e anno di matricolazione e poi cliccare su invia valutazione gratuita ti si aprirà una pagina con informazioni ancora più dettagliate non obbligatorie ma utili per avere una valutazione precisa la terza pagina è quella dei dati personali e mail numero di telefono nome cognome regione e provincia poi dovrai acconsentire all'informativa privacy e procedere alla valutazione in pochi minuti eccoci finalmente alla pagina dove caricare le foto della vostra auto esterni interni eventuali danni tagliandi e libretto di circolazione clicca su richiedi valutazione finale in pochissimi minuti avrai completato la tua richiesta a questo punto un esperto della nostra crew inizierà a valutare la tua auto esattamente non ci saranno pc o algoritmi a occuparsene ma una persona reale che terminate le sue operazioni di valutazione ti contatterà per concludere l'accordo potrai fissare un appuntamento in uno dei nostri rat x point sparsi per l'italia dove verranno controllate le reali condizioni della vettura se rispecchierà le foto inviate nella prima fase non ci saranno sorprese le nostre valutazioni sono reali e trasparenti facile no te l'avevo detto che acquistavamo in meno di 30 minuti quindi se devi vendere la tua auto e sei libero nella prossima mezz'ora ti aspettiamo su ratx.com ricordati di preparare già i tuoi dati e le foto che ti occorreranno exoraptics